come si esportano le lingue su video designer è possibile esportare le lingue create in un progetto video designer nel seguente modo all'interno della sezione ambiente effettuiamo il click col tasto destro del mouse su lingue e andiamo su esportare tutte le lingue selezioniamo la nostra cartella e possiamo dare un titolo al nome al file che creiamo il file sarà un file txt quindi un file testo salviamo verrà eseguita la validazione del target continuare sì una volta effettuata la validazione troveremo la nostra cartella all'interno del desktop all'interno della nostra cartella troviamo il nostro file testo è possibile aprire il file direttamente come formato testo oppure come in questo caso che vogliamo modificare il contenuto possiamo aprire il file con excel una volta aperto il nostro file excel verrà verrà strutturato in questo modo l'id quindi la posizione la lingua italiana con tutta la colonna della traduzione in italiano la lingua inglese con tutta la traduzione in lingua inglese e la posizione del dell'etichetta dell'etichetta che vogliamo modificare in questo caso all'interno del progetto abbiamo creato una lampada 1 scritta solo in italiano e non tradotta in inglese all'interno del file excel è possibile all'interno della colonna effettuare la traduzione quindi lampada 1 diventerà lamp 1 a questo punto è possibile salvare il progetto sempre in formato txt e successivamente inviare il progetto direttamente al cliente finale oppure effettuare un importazione del file txt all'interno del progetto all'interno delle migranti all'interno del progetto all'interno dell'interno dell'interno del progetto